Su destra si è creato un 2 contro 1 con Sole che è andato ad attaccare lo spazio e con Desciglio che ha portato la palla. Qui andiamo a vedere, lo vediamo benissimo. Sole si allarga, bisogna aspettare che il centrale, che si è caldirò in questo caso, venga a stringere. Troppo basso Macin, riceve il pallare a Nocchia, bravo a spostarsela e tu vi trovi un gran gol. È stato molto molto bravo. Vediamo Sole che scarica per il compagno, che si sposta la palla. È stato il primo controllo che ha fatto la differenza. Se l'è portata sul suo piede sinistro che non è il suo piede. Per Bellucci, credo, da Bellucci, perdono, per Badilà in quel caso. Siamo invertiti i ruoli, doveva esserci Badilà al posto di Bellucci, invece i ruoli si sono invertiti probabilmente in questa situazione. Questa palla ha messo in difficoltà il compagno ed è stato molto bravo Kulusevski poi a segnare. Questa palla che è andata a Pereira nella zona sinistra, gran cross e gran inserimento da parte di Colpani, che è stato perfetto nell'inserimento nei tempi di gioco e soprattutto nel mettere questo pallone sul secondo palo. Bellissima la traiettoria, bravo D'Alessandro ad inserisivo nei tempi giusti. Andiamo a vedere, vede il compagno, lo vediamo dallo sguardo Pereira, vede il compagno inserirsi. Molto bravo qui Colpani a mettere questa palla sul secondo palo.